devo parlare io io non so cosa dire perché per me non è solo un piacere è una cosa sono preoccupato perché lui la mattina parte io una settimana che sono in giro con lui sentirò molto la sua mancanza è una persona straordinaria sotto tutti i punti di vista e con il musicista poi è il massimo della vita Kevin Hay i brani che abbiamo suonato spero di ricordarmi il primo brano era giochi di luci la mia composizione e il secondo brano è Legia una sua composizione poi il terzo New Day un'altra composizione di Kevin e poi è una versione che abbiamo fatto al momento di I remember it tutto qua il prossimo il prossimo brano è la mia composizione scritta per questo ispirato dalle sue composizioni ho scritto una io che si chiama My Life is Now sottotitolo We Live the Present comunque grazie a tutti per essere qua stisera grazie a tutti i miei Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.